Dallo stadio Armando Picchi, Livorno, Juve, benvenuti da Fabio Caressa e Beppe Bergomi. Palla di ritorno, splendida per Pasquale, posizione regolare, Tavano al centro, Pasquale, 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 Belardi, Tavano la mette giù, ribattuta la sua conclusione, colossale occasione sprecata da Livorno. No, in mezzo a due lo perde, Messiano Zanetti, Trezeghe, Medved si disegna la Juventus, adesso in verticale con Del Piero, accenna l'uscita a Melia, Del Piero l'anticipa, brutta uscita di Melia che sceglie malissimo il tempo. Poi arriva De Vezze, traversone deviato, forse con un braccio, Belardi in due tempi, mischia e la palla resta lì, ancora Belardi, ancora un pericolo creato da Livorno, 22 minuti, si arrabbia Belardi con l'arbitro. Medved, dentro per Del Piero, adesso si è trovato di fronte un ottimo Livorno, Molinaro cerca il traversone, Trezeghe, Medved, e arriva Melia a inchiodarla lì. Ancora la profondità, Trezeghe, posizione regolare, Tavano, Trezeghe, 1-0, Trezeghe non segnava da prima di Natale. Sbaglia il controllo, scivola De Vezze, posizione regolare per Del Piero in contropiede, Del Piero aperto in contropiede, prova ad andare, Del Piero ancora uno contro uno, Del Piero in area di rigore, Del Piero, Alex! Del Piero, 2-0, sembra uno dei due gol che ha segnato con la Lazio in contropiede. Palladino sfida Pasquale, cerca un pallone per Trezeghe, che battia, grande, 1-2, Davi! Trezeghe, splendido ad orde da Juventus, splendido 1-2, Trezeghe, Del Piero, finta, palla dentro e tira il volo di destra. Tavano, palo e poi la palla che attraversa lo specchio della porta. Attraversione verso il centro, ancora Bogdani, contatto, e poi il Livorno che accorcia le distanze con Ciccio Tavano. E quindi golle di Bogdani, infatti non ero sicuro che avesse poi alla fine tirato in girata Tavano. Gol di Bogdani dunque che accorcia le distanze per il Livorno. Allora l'arbitro dice che può bastare, ma da tutti sotto la doccia risponde a tutti i problemi di infortuni e di assenze da Juventus vincendo al Livorno 3-1 con doppietta di Trezeghe, 5 gol in questo campionato al Livorno sui 15 totali e Alex Del Piero.